La libertà, lasciando andare all'angelo dove va Così per scherzo tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi Dimmi se vuoi, vai Sai, la melodia del piatto è Sarebbe quasi un po' così, potrebbe essere Così, aprendo l'anima così, lasciando uscire per me Ognuno dentro, ognuno in fondo a se stesso E per miracolo adesso, sembra persino un sincero Nang canta, nang canta, si Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cos'è la fin Ah, ah, ah Così per scherzo tra di noi, improvvisando ancora Ti seguo pure Ti seguo pure La sera io, il giorno piano piano se ne va Ma se canti le fanno Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cos'è la fin Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cos'è la fin Ah, 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 ah Grazie a tutti. Perché con il feeling si può fare tutto, anche se non si ha una bella voce, si può improvvisare il feeling in fondo, è quella cosa che bisogna avere dentro, che voi potete avere, se non solo sentirlo profondamente. Il feeling è un po' tutto quello che ci serve. Noi possiamo sbagliare ogni tanto, però se noi diamo qualche cosa le persone ci seguono e ci perdonano eventualmente. Grazie. 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 Grazie.